Eccola la democrazia, eccola qui. Eccola la democrazia, questo è Matteo Renzi, blindare il dissenso, buffone Renzi, dissenso democratico. Eccola, perché non ti piace creare la miazza quando dici tu, mi dispiace, io devo uscire dalla miazza. E' per chi? Ah, è che la camorra, è la camorra, l'autorità è peggio. No, questa non è una manifestazione, stiamo in piazza, no, questa non è una manifestazione. Alla, non sta questa manifestazione, alla, non sta questa manifestazione, alla, non sta. Tu stai facendo la manifestazione, non sta facendo la miazza, non sta facendo la miazza, non sta facendo la miazza, non sta facendo la miazza. Noi ce ne dobbiamo andare, ci puoi accompagnare la forza, ci puoi accompagnare la forza. La gestione dell'ordine pubblico, siete più voi che noi, siete armati e noi no. Mi spieghi qual è la logica? Siete brutti e noi no, come è un po' calcio. Alla, avanti, 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 avanti. E' ma io sto caduta tutto a travare. Oh, vai vedendo, è vero. La ricorrenza, ora e sempre, l'esistenza. Ma giustano pure i militari, oi? Grazie a loro, dà passione, dà passione, dà passione, dà passione, dà passione, dà passione.